Eccoci, eccoci, ciao a tutti, ben ritrovati con il secondo contributo di questo venerdì 19 gennaio. La squadra si è allenata questa mattina, si va verso la conferma dell'undici che ha battuto la Roma, quindi con Meignan, Calabria, Gabbia, Kier, Teo Hernandez, a centrocampo Reinders con Adli sulla tre quarti, Pulisic, Loftucic e Leao con Olivier Giroud nel ruolo di punta, di attaccante. Si va quindi verso la conferma totale della squadra che ha vinto contro i giallorossi a San Siro, ma attenzione perché domani è una partita tutt'altro che scontata, il Milan soffre sempre alla Dacia Arena, soffre sempre contro l'Udinese, serve il massimo della concentrazione, è un Milan che però, oltre a guardare il campo, oltre a guardare i risultati, va a caccia naturalmente della quarta vittoria di fila, è successo solamente una volta quest'anno, in questa stagione, vincere quattro volte consecutivamente in campionato. Il Milan, se dovesse tornare da questa trasferta a Udine con i tre punti in tasca, raggiungerebbe e guaglierebbe insomma queste quattro vittorie di fila e non è assolutamente una cosa scontata. Ma oltre a guardare al campo c'è anche il calcio mercato e attenzione perché c'è uno Stefano Pioli che da un paio di conferenze a questa parte continua ad essere bello preciso nelle richieste di mercato, continua ad essere un allenatore che chiede rinforzi, non si tira indietro nel dare anche pubblicamente quali sono i ruoli che dovrebbero essere rinforzati e attenzione perché oltre a dire dove il Milan dovrebbe intervenire c'è anche l'identikit del difensore che piacerebbe molto a Stefano Pioli. Sappiamo benissimo che per Alessandro Buongiorno del Torino c'è una fase di stallo perché il presidente Cairo ti chiede tanti soldi, il presidente Cairo chiede 35-40 milioni, il Milan a quelle cifre non ci arriva, vorrebbe inserire nell'operazione delle contropartite ma il Toro vuole scatenare un'asta e quindi c'è difficoltà ad arrivare ad Alessandro Buongiorno ma il Milan continua a lavorare sul mercato e Stefano Pioli per la seconda conferenza di fila lo dice chiaramente senza paura di essere smentito. La domanda è stata precisa, cercate ancora un difensore, vista comunque la prestazione di Gabbia e di Chier contro la Roma e lui dice sì sì non cambiamo le scelte che vorremmo fare in questo mercato la società sta lavorando, ci sono ancora due settimane, non cambia niente, vogliamo ancora il difensore. Ma chi difensore sta cercando il Miane? Chi vuole prendere il Miane? Quali devono essere le caratteristiche del difensore centrale che sta cercando la dirigenza con Moncada, Dottavio e Furlani sul mercato? E Pioli dice, deve essere un difensore completo, per giocare nel Milan devi essere naturalmente un difensore completo capace di difendere, di impostare, di partecipare alla manovra offensiva, un giocatore forte e solido tante caratteristiche importanti. Mi verrebbe da dire che un giocatore del genere che sappia fare tutte queste cose è un giocatore che costa tanto, è praticamente un titolarissimo non è semplice trovarlo sul mercato a gennaio, ribadisco ormai mancano 11 giorni alla fine del mercato quindi o hai un budget veramente ampio per cercare un difensore che sappia impostare, difendere partecipare alla manovra offensiva, forte e solido, non è che lo trovi tutti i giorni sul mercato quindi o la dirigenza ha delle idee chiare oppure immagino che si vada a prendere magari un giocatore in prestito per sei mesi per tamponare l'emergenza fin quando tornano i vari Kalulu, Kier Malik Chao e Tomori Kier c'è e il Mian lo conserva in una teca perché è fondamentale in questo momento o prendo un giocatore in prestito di sei mesi o vedo difficile l'acquisto di un top in difesa ma addirittura Pioli chiede anche un rinforzo a centrocampo, non si tira indietro sapete a centrocampo comunque la coperta è abbastanza corta perché con Ben Asser che sta disputando la Coppa d'Africa con Krunic che da separato in casa ha deciso di lasciare il Milan e è ufficialmente un giocatore del Fenerbahce da qualche giorno con Pomega che si è fatto male e ha subito un lungo e brutto infortunio la coperta a centrocampo è corta, la coperta a centrocampo è formata da Reyners, da Adli, da Loftucic, da Terracciano che può essere inserito come mezzala in questo centrocampo oppure bisogna ricorrere al giovanissimo Zeroli e quindi è fondamentale per il Milan magari andare a prendere anche un altro centrocampista e infatti lui dice credo che se ci sarà la possibilità si potrebbe fare anche qualcosa sul mercato a centrocampo abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Ben Asser in Coppa d'Africa, abbiamo perso Krunic può esserci la possibilità di un inserimento a centrocampo ma dipende poi dalle opportunità di mercato quindi un Pioli che non chiude le porte né in difesa né a centrocampo a questo punto secondo le logiche di queste dichiarazioni il Miena potrebbe anche provare a piazzare una doppia zampata un doppio colpo a centrocampo e in difesa a quel punto la Rosa sarebbe comunque rinforzata e poi il mister dovrà utilizzarla nel migliore dei modi da qui alla fine della stagione c'è da dire che, ribadisco, non credo che il Miena possa fare investimenti elevatissimi in questo mercato di gennaio quindi bisogna anche capire cosa si intende per opportunità di mercato sempre in questa conferenza giustamente sono state fatte delle domande sui giocatori che rientreranno tra qualche mese, qualche settimana perché sappiamo che Florenzi partirà con la squadra per Udine, Sportiello pure, Giroud tutto ok però ci sono Calulu, Ciao, Tomori e Pobega che rimarranno fuori ancora per parecchio tempo e Pioli dice non ci sono i tempi precisi un punto preciso verrà fatto a fine mese fra una decina di giorni abbiamo l'appuntamento con lo staff sanitario per capire un po' i rientri di Tomori, Ciao, Calulu e Pobega a fine mese dovremo fare anche la lista UEFA e sarà importante capire queste situazioni quindi si vuole attendere un'altra decina di giorni per stabilire con più precisione i tempi di recupero di questi giocatori a proposito Pellegrino, difensore centrale giocherà ancora una volta con la squadra Primavera lo ha già fatto settimana scorsa lo farà anche questa volta in questo weekend e quindi sostanzialmente Pellegrino insieme alla Primavera avrà la seconda possibilità di giocare per mettere minutaggio nelle gambe mi dicono che tra i giocatori che hanno problemi dal punto di vista fisico quindi giocatori fuori in infermeria chi potrebbe tornare prima è Malik Ciao Malik Ciao che sta avendo comunque un bel recupero rispetto insomma al suo infortunio sta accelerando i tempi e potrebbe essere lui insomma il primo a rientrare comunque è fondamentale per il Milan ritrovare un po' di titolari in quella zona del campo ragazzi noi ci vediamo domani vi ribadisco la probabile formazione che ho elencato a inizio video Milan che va verso la conferma totale degli 11 che hanno battuto la Roma per 3-1 quindi con Mignan in porta con Calabria, Gabbia, Kier e Tevernandes in difesa Reinders e Adli a centrocampo poi sulla tre quarti Pulisic, Loftucic e Rafa Leao la punta sarà ancora una volta Olivier Giroud che ha recuperato dalla febbre quindi è arruolabile per la sfida delicata, importante sempre antipatica contro l'Udinese è sempre stata una partita rognosa per il Milan vediamo se questa volta i rossoneri riusciranno a tornare a casa con i tre punti, ciao